la Juve quest'estate vorrebbe in maniera sana trovare anche una sistemazione volendo a Chesley la Juve il sostituto ce l'ha già nel senso che l'ha già trovato che è carne secchi carne secchi Perin giovane italiano con Perin ha preso carne secchi? ha preso in questo momento no perché l'Atalanta deve capire anche cosa succede con Musso però l'entourage di carne secchi ha parlato tante volte con la Juve in questi mesi perché piace, perché è buono in italiano perché ti costerebbe molto 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 meno di no non credo 30 milioni credo sui 15 l'Atalanta Robaldi però ragazzo del 2000 tu se vendi Chesley che ha 6 milioni e mezzo netti più bonus per altri due anni abbassi tantissimo a livello di monti in gaggi la carne secchi è un milione, milione e due esageriamo? Milione e mezzo grazie a tutti grazie a tutti